Luna Park di Como, la battaglia non si ferma e approda in regione Lombardia. Sosteniamo a ogni livello le 65 famiglie con 250 persone che vivono e lavorano come spettacolisti viaggianti a Muggiò, in quanto il sindaco rapinese ha deciso da quest'anno di non farli esercitare nella città, creando non solo discontinuità con la tradizione centenaria della loro presenza e intrattenimento locale, ma anche un impatto economico negativo, facendo mancare un importante indotto economico alla città. È la dura nota che arriva dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Cristian Garavaglia, Capogruppo e Anna Dotti, a margine dell'incontro con una delegazione di giostrai per spiegare quanto è accaduto in città e soprattutto per cercare di trovare una soluzione e poter lavorare. La scelta di cacciare questa importante realtà, creando disagi ai loro fragili e ai minori che frequentano le scuole locali, non ci vede assolutamente d'accordo, né nella forma né nel modo. Questa presa di posizione del sindaco rapinese non ha alcun giustificativo, aggiungono i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia. Ci auspichiamo che dal 16 marzo queste famiglie e aziende abbiano la loro giusta e doverosa collocazione. La battaglia tra comune e giostrai prende avvio un anno fa, quando la giunta cittadina decretò il ridimensionamento della superficie a disposizione, passando da oltre 20.000 m2 a poco meno di 5.000. Il motivo di questo cambiamento va ricercato nello sviluppo futuro di tutta la zona sportiva, che attende da anni una riqualificazione. Ad oggi però nessun cantiere ha avviato, questa una delle obiezioni mosse e anche le parole del sindaco più volte ribadite sull'aver comunicato la decisione un anno prima per consentire alle famiglie una riorganizzazione vengono respinte al mittente.